Cari amici di Meteo Giuliaci, ben ritrovati nella calza della Befana, aria fredda, si cambia, via l'aria calda che è giunta in queste ultime giornate, eruzione di aria fredda che attraverserà tutta la penisola italiana, migliora al nord, ultime nuvole, ultime fioccate sull'Emilia centro-orientale al mattino, anche sul Trivenuto in generale, ma poi tende a migliorare velocemente con ampie aperture del cielo nella seconda parte della giornata, un po' su tutto il nord d'Italia, delle piogge sparse e irregolari, non particolarmente significative, ma ci saranno appunto sulle regioni centrali con quota neve che calerà dai 1.300, 1.400, sin verso gli 800, 1.000 metri sulle regioni centrali, sul finire di giornata tende a peggiorare anche all'estremo sud, attenzione alla Sardegna, qualche rovescio è temporale di moderata intensità. È tutto, buona epifania a tutti voi, arrivederci.